il messaggio di tutti i giardini dei giusti che abbiamo costruito in italia del mondo è il messaggio della grande possibilità di ogni essere umano perché ogni essere umano nella storia può fare la differenza e il giardino dei giusti richiama quindi al ruolo dell'individuo cioè l'individuo non è uno spettatore fa parte della storia quindi può scegliere tre cose può scegliere di essere indifferente può essere può scegliere di essere complice del male oppure può scegliere di fare del bene di salvare delle vite e di salvare il mondo quindi questo meccanismo della scelta è un meccanismo che passa in ogni essere umano cioè quando noi ricordiamo i giusti in realtà parliamo di noi stessi che possiamo ogni volta prendere una decisione e i giardini dei giusti hanno un grande ruolo educativo perché non soltanto fanno ricordare delle figure importanti della storia ma un po' intervano gli esseri umani io dico sempre che il giardino dei giusti ha una funzione socratica cioè una sorte di richiamo alla propria responsabilità e allora nel caso proprio di questa scuola che insegna ai ragazzi adottare contro l'odio e il significato è quello di appunto determinare per questi ragazzi la possibilità di una condotta futura quindi anche questi ragazzi che usciranno da questa scuola da rondine potranno essere nelle piccole e delle grandi cose delle persone giuste